Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della NoiaCraft Sono ancora bloccato con questi mostri e ci ho riflettuto un po' su come poterli abbattere ragazzi E ho scoperto, guardate un po', che in acqua muoiono e non possono tirare le loro palle infernali Quindi io potrei tranquillamente andare sott'acqua e sfasciargli il culo a tutti Che idea geniale che ho avuto L'unico problema sono questi pesciotti che mi preoccupano un po', quindi adesso noi li ammazziamo Ci facciamo la pizlazio di cibo e poi cerchiamo di attirare questi stronzi di fuoco in acqua PAPAPAPAPAPAPAPAPAPA Vedete ragazzi, l'importante è portarli a fondo e loro moriranno È stato bellissimo quando l'ho scoperto, molto soddisfacente Ho rotto la pala e il piccone, volevo scavare tutto sotto al fiume E soltanto che sono rimasto intortato e non ho visto vie di fughe, quindi adesso io mi riparo la pala Perché è rotta, ok E cerco di attirare quei cosi dentro l'acqua Mi devo impegnare però Guarda questi pesciotti qui che mi vogliono dare il cibo Dammi cibo, lo so che me lo vuoi dare, grazie, gentilissimo Ok ragazzi, devo cercare di attirarli qui dentro Loro mi vedono, vedete? Sono attirati da me E adesso cercheranno di lanciarmi palle di lava Dico, mortacci su Ma me ne sono visto morto Vieni qua dentro, vieni Bravo, però vieni a mollo, sì, 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 sì Le palle di lava ragazzi si annullano d'efficacia Quando entrano in acqua Aia, però no, dovete farlo entrare in acqua Perché se non entra in acqua Ok ragazzi, è a mollo Adesso che è a mollo Aia, gli sfasciamo i denti Vieni, vieni Sì, sì, bruciami ora, no? Bruciami, stronzo, bastardo Pa, 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 pa Loro non attaccano corpo a corpo Poi lanciano solo quelle palle di fuoco Che sono perfettamente bloccabili Oh, oh, stronzo di fuoco, lancia palle di fuoco Mi fa danno solo di impatto Ma di fiamma non mi fa nulla Perché sono a mollo Che tattica, che tattica Vieni qui, stronzo, pezzo di zero Sfidami se dà il coraggio Ah, lei, guarda che cazzo fa qualcosa Basta Muori da stronzo che sei Mamma mia Aia, mi ha preso Adesso siamo a mollo Adesso siamo nel mio territorio Vieni a combattere, no? Combatti nel mio territorio Ah, non puoi Uh, le magma cream belle Belle le magma cream Ok, ragazzi, ne è rimasto un ultimo Vieni che sono qui Combatti con me Ragazzi, sono a livello Aia, sono a livello 43 Ho un botto di cuori bonus Però sto a basso di vita Perché sono il nostro bonus E voglio fare dare il boss a basso di vita Muori, bastardo Aia, aia, l'uccido Sì, sì, ce l'ho fatta Mamma mia, ragazzi Vado sempre più giù Sto perdendo sempre più vita La smetti Xander di fightare senza curarti Non mi pare il caso di morire esplosi Oh Ok, ragazzi Il villaggio non è ancora libero Rimane un altro mostro Ce la posso fare Non posso demordere così Ragazzi, è iniziato a piovere Ah, ah La pioggia lo sta uccidendo Ma se mi crafto delle frecce Gli tiro le frecce Devo rifugiarmi in casa rapidamente Questa è la mia casa, giusto? Vai, veloce Xander Entra dentro, entra dentro Entra dentro il volo Lana Salvami tu Wow Sono dentro Ah, ah, ah E lui è fuori Ok, ragazzi Dobbiamo craftarci delle frecce Perché io ho piume Stick E flint nell'inventario Vai Chi è che ha aperto la porta? Stronzi Uno Due E tre E volà Ci siamo fatti un bel po' di frecce Adesso useremo il nostro arco Con power Vieni qui, stronzo Ti powero la faccia 10 danno 9 danno 8 danno Oh Ci è mancato poco Porca paletta Oh, occhio Villaggiare che mori bruciato Qui è brutta la situazione Perché è ancora vivo? Perché è ancora vive? Bah Ah, stecchito Stronzo Oh, ma con crema Grazie È stato un fight terribile Ragazzi Ma Xander 1 Stronzi 0 Ok, basta E mi sono divertito Tornando a noi Sono andato al villaggio Ragazzi Perché come vi ho detto Ho trovato la soluzione Per scavare il diamante E ottenere il mio primo diamante E fare la cosa Allora, come si fa il diamante? Mi serve Prima di tutto della lava Purtroppo gli stronzi di lava Cosa fai tu qua dentro? Allora Per prendere la lava Mi servono dei secchi Per fare i secchi Mi serve del ferro Per fare del ferro Mi servirebbe un pulverizer Per moltiplicarlo Ma chi cazzo se ne fotte Per ora non c'è problemone Quindi facciamo dei secchi Facciamo Ripariamoci il piccone Prendiamo la lava E facciamo Il bronzo Esatto, ragazzi Dobbiamo fare il bronzo Che a noi piace tanto Però dobbiamo utilizzarlo Con la fornace Non il bronzo normale Ma il bronzo fornaciato Che non è la stessa cosa Serve il copper Ma potrei anche usare Quello direttamente grezzo Questo qui Allora Se tu esci da qui Ci mettiamo in pace E non succede niente Io non ti uccidio Tu esci E non Non ti cancello Dalla faccia dell'universo Quindi Adesso esci da qui Bravo Esci Scusi Esci Grazie Molto gentile Gentilissimo Guardi Molto gentile Vaffanculo Allora Dobbiamo mettere a cuocere Dal nostro Dove sta? Non c'è il controller qui? Serio? Dov'è lo smeltery controller Raga? Ah non c'è? Ah lì è una fornace Senza smeltery controller Raga Allora Ah si è solo È solo base È solo una semplicissima fornace Senza nulla di particolare A me va benissimo Romilamento Il discorso è che La fornace Voglio alzarla di un blocco In modo che posso versare liquidi all'interno Insomma Non so se i liquidi possono volare in questa modo Ma non credo La roba va tutta sotto E poi vorrei fare tipo una specie di automazione Magari potrei fare la cottura con i minerali Con la tinker Almeno finché non faccio il polverizer della Thermar Anche il polverizer non dovrebbe essere difficile da fare Allora Cosa ci serve per far partire questa Maradam? Ci serve il controller Il tank per mettere la lava E quelli per far uscire il liquido Cioè il materiale fuso Capito insomma no? I canalini quelli che stanno nelle forgi Ademi se le forgi No eh Allora Quello che dovremo usare È il materiale che ho raccorto nelle scorse puntate Che sarebbe la gray La gravel La sand E la clay Che ho lasciato da qualche parte Non ricordo dove Do cazzo ho messo la clay Oh ero pieno eh Non diciamo bagionate Eccola qui Quindi la clay messa a blocco Nella crafting Clay Sand Gravel Tutto splittato in questo modo Guardate Una cosa del genere Bam Dovrebbe darmi il grut Il grut ragazzi Non è quello dei guardiani della galassia Ma è quello che ci serve Per fare la tinker Lo mettiamo a cuocere una normalissima fornace Con del koal Facciamo anche altro E questo grut ragazzi Ci darà Il materiale nero Che ci serve per fare la fornace Guardate un po' Tadan Allora 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 Con tutto il grutto Che abbiamo messo da parte Ragazzi Che abbiamo cotto Anzi Ci abbiamo fatto i seri brick Ci facciamo Tutto un tank Eccolo qui Seri tank Poi ci facciamo Il controller Tadan Smettere il controller E poi dobbiamo fare Quello che fa uscire liquidi Che vi dicevo Che però ci serve Ah le schioppi d'artificio Che ce ne serve un bel po' Allora si facevano mi pare così No così ci fa il cestello Era così No Come si faceva Non ho memoria Di questo craft No veramente ragazzi Non mi ricordo Come che si facevano Gli smeltery drain Oddio ragazzi Non ricordo un craft Serio Ah in verticale Non orizzontale Ma dai Serio Eccolo qui ragazzi Lo smeltery drain E per finire Ci manca ciò Che va attaccato Allo smeltery drain Che è la La canalina Insomma Che è questo qui Il sered Fouchet Adesso ragazzi Andiamo alla nostra fornace Ci schiaffiamo Dentro tutti i nostri minerali Però prima di tutto Mettiamo il controller Nel mezzo qui Controller Anzi mettiamolo di là Qua Fa più figo Qua Beh Controller Ta-da Online Adesso Che è successo? C'è scritto un chat? Sare di livello il piccone? No Ok Never mind Never mind It's all good Ok mettiamo il sered tank Accanto al controller Adesso il nostro controller Allora anche un tank laterale Eh Però la struttura Non è ancora completa Perché non abbiamo Messo un blocco qui Un blocco Ok guarda un po' Ta-da Smeltery completa Adesso noi possiamo mettere All'interno i minerali Però Però Questi cosi dovrebbero andare Più sotto di uno Lo so ragazzi Può sembrare strana come cosa Ma il discorso È molto semplice Vedete ragazzi Il liquido andrà qui A questa altezza Quindi l'uscita del liquido Deve essere per forza A questa altezza Non può essere più sopra Quindi questi cosi Andranno sotto così Lo so Sarà difficile Automatizzarli Mettendoli sotto così Basta scavare sotto terra Ragazzi siamo in minecraft Il gioco è infinito Ci offre infinite possibilità Di infinitosità Infinita E adesso faccio un altro di questi Perché mi piace Uno due E tre Ta-da Ne metto due Così Non lo so Fa più figo Insomma ragazzi Averne due fa Eh io ho la fornace Più veloce della tua Uno E due Fatto E adesso andiamo a mettere all'interno I nostri minerali Pam pam Tu non devi stare lì dentro Lo sai Ah è vero Lo sapete ragazzi Che io potrei mettere in teoria I minerali Gettandoli dentro Una volta era così Vediamo se è ancora così Non è più così Fai trolli Fai trolli LOL Me le ha ridati Vabbè queste sono cose mie ragazzi Non ci fate caso Perché ho abbassato la fornace Quindi capito Gli slot che stanno qui Sono in base al livello della fornace E voi direte Che cazzo stai a di Non è una cosa stupida È importante Perché mi spiego Guardate qui dentro Guardate Guardate Vedete qui quanto spazio c'è 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 È un 3 per 3 9 Ed è alto 2 Che cazzo Fatto pian corpo Dicevo è 3 per 3 9 E è alto 2 Quindi 18 E nella fornace ci stanno esattamente Vedete 9 e 9 18 slot Quindi praticamente ogni livello Che farete Avrete 9 slot in più Quindi abbiamo 9 qua 9 qua E se io alzassi di un altro livello Avrei altri 9 slot Quindi ogni livello che mettete 9 slot addizionale alla fornace Che figata Però insomma Non ce ne fotto cazzo Andiamo a prendere la lava Purtroppo ragazzi I waypoint In questo mondo Non posso usarli Già a me non piace usarli Poi in particolare qua Essendo in hardcore Non posso usare Alcun tipo di cheat Quindi quantomeno Usare un TP Lo so È un po' rosigante Come situazione Però ce ne dobbiamo fare una ragione Allora io qui Sinceramente Metterei un blocco per tappare Così mi ricordo che c'è rimasto Un pezzetto di lava Allora La lava Ne consuma molta Quella fornace Ne consuma molta Ma a noi Un secco di lava Basta e avanza Perché basta fare un piccone E potremo ottenere quel diamante E poi Può darsi che ci sia Una svolta in discesa E potrei continuare Questa serie hardcore Senza a morire Mamma mia non ci credo ragazzi Una serie hardcore Senza a morire Non voglio dirlo Guarda Perché se no me la tiro da solo Sto bene così Però Può darsi che succeda Non lo so Vedremo poi Sono tutto emozionato Tutto Vrrr Per questa cosa Capito insomma Ok Sono pronto ad agire Vado Secchio di lava All'interno del tank La fornace Dovrebbe andare online Esatto ragazzi Lo capiamo subito Dal fatto che Guardate un po' I minerali Stanno salendo Di temperatura Esatto Questa barretta rossa Accanto ai minerali È la temperatura che sale Quando la barretta Si riempirà Sarà raggiunta La temperatura necessaria Per la fusione Del minerale E diventerà Termini troppo complessi Raga Devo far rilassare il cervello Perché Schiop Qui eh Non mi pare il caso Ok ragazzi Adesso può sembrare Una banalità Ma io devo fare L'ho detto che Devo far raffreddare il cervello Sì l'ho già detto Facciamolo raffreddare un po' Ragazzi Tutto sto bordello E io ho scoperto Che ho una testa Di piccone di bronzo Ho scoperto Di avere una testa Di piccone di bronzo Però Il tutto Non si è scoperto Di avere una testa Di piccone di bronzo E non lo sapevo Te dico fermate Quando l'ho fatto What? Non ci credevo ragazzi Ho una testa Di piccone di bronzo E credo che tutto Questo processo Possa essere quindi Utilizzato solo Per gli attrezzi Che non sono Il piccone Perché il piccone Mi sa che ce l'ho già Proviamo Ok ragazzi Io voglio fare gli attrezzi Di bronzo Perché in teoria Il bronzo è migliore Del ferro Non c'è dubbio su quello Però da quanto dice qua Questo scava redstone E questo scava iron Perché? Dove mi dite Che è entrato un upgrade? Scusate Ma quello che diceva Sì ragazzi Mi è entrato il mining Level sull'iron Mentre scava Non ci credo Infatti ero Dubbioso Mi ha dato mining Level più uno Ma serio Ma non è vero Abbiamo un livello Superiore Levate dal cazzo Peone di merda Sul piccone di ferro Io ragazzi Il piccone di bronzo Lo faccio comunque Perché è migliore Di quello in ferro Senza dubbio Però ovviamente Questo piccone di bronzo È di livello più basso Ok ci state fino a qui Quindi essendo di livello più basso Magari Avrà Avrà difficoltà Ne scavare il diamante Infatti saremo adesso Quello di ferro Per scavare il diamante Poi Batte la pesca Dalla pinder culo Perché abbiamo Il piccone figo Ok ragazzi Quindi detto questo Farei una cosa Molto simpatica Vorrei fare degli stampini Ok Noi abbiamo Adesso abbiamo messo Il bronzo Vedete Che bello Molto bronzo Che figo Abbiamo 32 lingotti Di bronzo da fondere Come facciamo a fondere Il bronzo Dobbiamo fare O un'automazione O un sistema Comunque particolari Quindi io Vi saluto qui ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Anzi Sapete che faccio Perché concludo il video Guardate che faccio Una cosa da video Bellissima Semplicemente Mi del trasporto Davanti al diamante E lo scavo Alla facciaccia vostra Oh Quanto diamante Oh Rekt Ragazzi Mamma mia Quanto Mamma mia Sei diamanti Ragazzi Freschi Freschi Sei diamantoni E io vi saluto qua È stato un piacere Ragazzi Sono più fai Di tutti Ho sei diamanti Lo so Può sembrare una minchiata Ma nella noia Craft fare sei diamanti Non è da tutti Ecco ragazzi Ho il piccone Col manning liver Più uno Che figata Posso scavare tutto Adesso Mamma mia Però dobbiamo farlo Su quello di bronzo Non cazzati Ragazzi Vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Lasciate un mi piace Condividete Best serie Eva